...maiglia di gente pronti all'inizio di questa serata, pronti a ricevere veramente musica per tutti i gusti. E per iniziare questa serata promossa da Agbalt, e ricordo che Agbalt è l'associazione dei genitori per la cura e l'assistenza dei bambini affetti da leucemia e tumore, ed ecco qua che iniziamo una serata per tutti i gusti con il trio Jets, con Rossano Gasperini, Luciano Malucchi e Stefano Pioli. Un bell'applauso! Grazie! 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 Alla prossima. 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 Alla prossima.